La Camera ricorda oggi l'On. Iole Santelli, rendendole omaggio a tre anni dalla sua scomparsa, con una preziosa raccolta dei suoi discorsi politici e parlamentari. Iole Santelli è stata una figura esemplare nel panorama politico italiano. Profondamente orgogliosa delle sue radici calabresi si è dedicata sin da giovane all'attività politica con grande impegno e passione. Ha rivestito numerosi incarichi istituzionali, arrivando ad essere la prima donna eletta Presidente della Regione Calabria. La ricordiamo con grande e con particolare commozione per la sua grande umanità e professionalità. La ricordiamo per la forza e il coraggio con cui ha condotto tutte le sue battaglie, anche la più difficile. Si è spesa sino all'ultimo minuto per le idee in cui credeva e soprattutto per la sua terra. La sua politica è stata caratterizzata da questa forte identità territoriale. Ha speso tutte le sue energie a favore dello sviluppo sociale ed economico della sua Regione e del Meridione. Grazie alla lettura dei suoi interventi, condensati nel volume che viene presentato oggi, possiamo apprezzare la coerenza e la serietà dei suoi ragionamenti. In essi emerge l'indiscutibile preparazione con cui affrontava i diversi temi dei dibattiti parlamentari. Nelle sue parole si può scorgere il senso più profondo e il rispetto che ha sempre nutrito nei confronti delle istituzioni e dei suoi cittadini. Iole Santelli ha condotto la sua azione politica sempre con responsabilità e lucidità, guadagnandosi sul campo la stima delle colleghe e dei colleghi parlamentari. Ha rappresentato un punto di riferimento anche per chi era distante dalle sue idee. Tutti hanno sempre nutrito grande rispetto per la sua persona e per la sua storia politica. Ci ha lasciati troppo presto. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.